Inaugurati i nuovi spogliatoi dello stadio di Ambra, frazione del comune di Bucine. Grazie ad un investimento di 300.000 euro, 250.000 di questi finanziati dalla regione e restanti dal comune, è stato possibile rendere realtà due nuovi spogliatoi per le squadre, uno per gli arbitri e l'infermeria. In questo caso c'è un rispetto delle norme, sono norme che derivano dal CONI, quindi da norme nazionali. In questo caso è stato realizzato uno spogliatoio che non ha due spogliatoi per le squadre, ma poi anche l'infermeria, per gli arbitri, tutto con l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi per dare una struttura che sia regolare, corretta e abbia una visibilità totale, un'accessibilità totale, che è un elemento importante, va di pari passo con lo sport e quindi con la vita civile, la vita sociale di questo luogo. Lo spogliatoio della squadra locale è stato intitolato a Franco Gostinelli, storico presidente della società scomparso tre anni fa. L'impianto sarà poi completato con una tribuna coperta, già progettata e finanziata, per 130 mila euro. Mi sono prestato a fare il presidente di questa squadra, ringrazio ovviamente chi mi ha eletto, chi mi ha dato fiducia, proprio per questo, perché ho capito il grandissimo valore sociale che ha una squadra di calcio in questi paesi. Questi lavori, tanto sofferti, finalmente si sono conclusi e devo dire, c'è anche qualcuno che è entrando a vedere gli spogliatori, dice che in queste categorie degli spogliatori così belli non esistono.